Allora, oggi gnocchi, stasera gnocchi, aia, sto facendo i funghi, ma sai che quasi quasi faccio i gnocchi coi funghi? Tiriamo un po' su che non serve niente. Ecco qua, eccomi qua, la la lero e la la la. Belli, che prof... San Pietro, Gian Nicolo, ecco qua i gnocchettini, fatti i gnocchi ragazzi. Adesso metto un bel, eccomi qua, un bel po' di parmigiano, molto parmigiano. E mentre io cucino dopo le prove stanca morta, dov'è mio marito? Partita, amore? Eh? Che cazzo sempre con queste partite? Sta aspettando che... Sì, 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 caro, anche i gnocchi ho fatto. Sì, ecco, va. Chi gioca? Una e due. Chi vince? Una a uno. Ecco.